Ecco qui il nuovissimo Huawei MatePad Pro, un tablet premium veramente molto interessante per tutti i professionisti e creativi che hanno bisogno di un dispositivo molto potente da potersi portare sempre dietro ovunque vadano lui in tante occasioni infatti vi può anche sostituire il laptop ovviamente dipende da quello che è il vostro utilizzo professionale o creativo ma vi posso dire io in quanto videomaker e 3D artist comunque lavoro molto con la grafica, con le animazioni anche appunto con i render 3D insomma con lui mi sono veramente divertito tanto ma lo vediamo più nel dettaglio subito dopo la sigla! Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione come detto poco fa il protagonista di oggi è il nuovissimo Huawei MatePad Pro in configurazione con la tastiera magnetica e anche la M Pencil questi accessori comunque li vediamo fra poco adesso concentriamoci intanto sull'estetica e il design questo tablet è veramente un gioiello tutte le finiture sono di altissima qualità questo danno in prova alla colorazione dorata e la cover ha questa texture effetto carta davvero molto piacevole al tatto e molto bella anche esteticamente posteriormente troviamo le due fotocamere dopo vi mostro anche la qualità nel dettaglio di questi obiettivi è molto sottile, parliamo di 5,5 mm e tutto il frame è curvo quindi si tiene veramente molto bene in mano il peso è di 508 grammi sul lato sinistro del frame troviamo il tasto di accensione due dei quad speaker perché troviamo gli altri due appunto sul lato destro insieme anche alla porta USB-C invece qui sulla parte superiore del tablet troviamo il bilanciere del volume prima di parlarvi degli accessori in dotazione voglio mostrarvi questo bellissimo display da 12,2 pollici con tecnologia OLED Paper Matte e la finitura è veramente tanta roba ha angoli di visione pazzeschi i colori sono super brillanti questo anche in merito della nuova tecnologia Tandem OLED che appunto vi consente neri assolutamente profondi e colori vibranti ma non solo solitamente quando parliamo di tablet o comunque di laptop siamo abituati a una luminosità non troppo alta qua nonostante siamo di fronte ai softbox dello studio guardate se alzo la luminosità al massimo tant'è vero la camera neanche riesce a leggere tutte le informazioni per quanto è luminoso infatti se lo metto a metà luminosità diventa di nuovo leggibile questo significa che anche sotto i raggi diretti del sole questo schermo è veramente super luminoso una cosa da non sottovalutare minimamente poi è anche super fluido questa tecnologia Paper Matte vi consente di avere una superficie opaca antiriflesso che anche questo aiuta tanto a far sì che il dispositivo sia leggibile sotto i raggi diretti del sole ma non solo perché vi aiuta anche a far sì che la vista sia sempre confortevole su questo schermo veramente un display molto bello e molto fluido e se parliamo dello schermo ovviamente dobbiamo parlare anche degli speaker quad come vi dicevo a inizio video e vi posso dire che sono veramente potenti e quindi per la riproduzione dei vostri contenuti audiovisivi preferiti questo tablet è veramente un'ottima soluzione alzo un attimo il volume purtroppo temo che dal microfono che indosso non si possa ascoltare appieno questi speaker ma vi posso dire anche che hanno dei bassi veramente molto interessanti soprattutto se pensiamo alla categoria del dispositivo che stiamo testando ma adesso parliamo un po' di specifiche tecniche e numeri il Huawei MatePad Pro è un tablet basato sulla potenza ma anche sull'autonomia tutto parte prevalentemente dal suo processore che è un Kirin T91 con architettura octa-core e qui potenza, efficienza, energetica e anche la qualità di non scaldare praticamente mai sono diciamo le sue peculiarità con 12 GB di memoria RAM e una memoria interna di 512 GB è un fulmine in tutte le situazioni anche il multitasking qua è molto semplice vi consente una produttività veramente molto interessante quando siete in giro anche per lavoro e invece parlando della batteria siamo rimasti diciamo piacevolmente sorpresi perché siamo arrivati a 12 ore di utilizzo intenso con una sola ricarica il merito sicuramente anche della batteria da 10.100 mAh inoltre è supportata anche la ricarica rapida da ben 100 Watt e questo gli consente in soli 40 minuti di portarlo al circa l'85% della batteria questo è il caricatore che trovate in confezione da 100 Watt e come vedete cosa utilissima c'è una doppia porta una USB-A e una USB-C adesso però prima di mostrarvi tante altre feature veramente interessanti del Huawei MatePad Pro vi faccio vedere gli accessori che ci sono arrivati questa qui è la Glide Keyboard quindi una cover tastiera magnetica dove andare a collegare direttamente il vostro Huawei MatePad Pro innanzitutto super sottile tutti i materiali morbidi e di alta qualità quindi al tatto si percepisce subito che è un prodotto premium vi posso dire che io ormai sto testando questo tablet con questa tastiera da tanti giorni sono più di due settimane e mi trovo benissimo anche per scrivere ma anche per navigare velocemente grazie a questo touchpad posto qui inoltre nella parte superiore c'è questo spazio dedicato alla M Pencil che si incastra perfettamente qui collegare il tablet è estremamente semplice perché vi ripeto è magnetico quindi basta avvicinarlo che si collega e così in un'unica soluzione potete portarvi dietro il Huawei MatePad Pro che diventa veramente un laptop sotto tutti i punti di vista ve lo faccio vedere anche aperto sul tavolo è comodo perché potete posizionarlo nella posizione che preferite e da qua potete accedere subito alla M Pencil e quindi essere pronti a lavorare quindi adesso per tutti i content creator e non solo vi mostro alcune funzioni molto interessanti che potete fare con questo tablet andando in area M Pencil potete scaricare diverse applicazioni proprio pensate per i creativi e non solo per la produttività dove utilizzare la M Pencil qua c'è GoPaint quindi un software per poter disegnare lo so che ho detto che sono un content creator o altro ma adesso per la recensione disegno molto velocemente oddio non è che sia un grafico o un artista sotto quel punto di vista però per farvi vedere poi ovviamente si può anche colorare quindi un'applicazione veramente molto interessante e utile per tanti motivi poi torniamo indietro sempre da area M Pencil vi volevo mostrare Nomad Sculpt qualcuno di voi già lo conoscerà per i 3D artist ma soprattutto per coloro che fanno appunto sculpting digitale è un software molto interessante che vi consente appunto di creare dei modelli in 3D semplicemente usando la M Pencil non solo ovviamente non possono mancare tutte le app per poter prendere appunti con la M Pencil e quest'altra è molto interessante perché potete creare un nuovo documento nota nuova e potete anche scegliere la copertina da dare alla nota proprio come se fosse un libricino questa è la copertina qua si dà il titolo Tecno Android lo potete pure scrivere e poi Tecno Android lo prendi in automatico diamolo ok fatto eccola qua Tecno Android e qui potete prendere tutte le note che volete ciao amici di Tecno Android vi posso garantire che la M Pencil è veramente super fluida molto comoda da usare ovviamente in questa posizione che ora sto adottando per mostrare bene in camera il display non è facilissimo scrivere però come vedete ci sono tante funzioni interessanti anche per sottolineare ed è un'app veramente molto ben fatta veramente molto molto divertente quindi ripeto per i professionisti non solo per i creativi ma in generale per tutte quelle persone che hanno bisogno di grande produttività in giro questo dispositivo è veramente molto interessante e inoltre la penna potete anche posizionarla qua sopra per quando necessitate di avere le mani libere il touchpad di cui vi ho parlato prima vedete anche esso è super fluido e non ha mai perso un colpo davvero molto molto interessanti questi due accessori e per quanto riguarda prezzi cose tutto il resto guardate il video fino alla fine inoltre ci tenevo a dire che questa è la M Pencil di terza generazione e offre oltre 16.384 livelli di pressione vi avevo parlato delle fotocamere ve le faccio vedere subito perché sappiamo nel 2024 quanto sia importante avere delle fotocamere di alta qualità proprio per consentirci di fare delle video call per lavoro ovunque ci troviamo in maniera professionale e sotto questo punto di vista il Huawei MatePad Pro non delude questa è la frontale guardate la qualità di cui è dotata e ovviamente quella posteriore ancora di più 1x ma c'è anche la 2x quindi quelli che solitamente sono i punti deboli di un tablet ovvero le fotocamere su questo dispositivo invece sono veramente di alta qualità ed eccoci giunti alle conclusioni sul nuovissimo Huawei MatePad Pro da 12.2 pollici un dispositivo che ho veramente amato che ho usato tantissimo in queste oltre due settimane di test ed è super versatile sia per creativi che per professionisti per tutti coloro che necessitano veramente di un dispositivo che quando sono in movimento può anche sostituire il laptop lui è veramente molto interessante lo potete trovare sul sito ufficiale a un prezzo di 999 euro ovviamente come al solito vi ricordiamo che lasciamo qua sotto nel box di descrizione tutti i link utili per poterla acquistare promozioni, promo, varie offerte e tutto il resto e come al solito se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità fatecelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con la prossima video recensione e noi ci vediamo con la prossima video